Oggi è un giorno speciale e andremo con lei a prendere un'altra come lei. Adesso andiamo a prendere Francesco che è bello lontano, ci rivediamo dopo. Sono appena arrivato da Fra, ma Fra non c'è. Ho avuto qualche piccolo intoppo perché mi sono dimenticato che l'altra volta quando sono uscito a fare un po' di enduro ho perso questa vite e di conseguenza quella che tiene tutto si è persa e quindi qua balla tutto e questo qua lo si toglie come niente. Ma ecco Francesco a arrivare. Niente Fra bisogna fare benzina perché sono in riserva. Marcia. Sì devi stare lì, invece c'è scritto Yamaha. Mamma mia. Per la prima volta Franci Zavorino su Crafty. Raffaele. Allora lo vedete questo punto sulla mappa? E' il Fra che si sta spostando con l'XT insieme a Raffaele per andare a ritirare il nuovo XT. Tra dieci minuti uscirò di casa e l'intercetterò sull'A4. Sono al casello. E' il Raffaele recuperati. Adesso andiamo. Buonasera. Buonasera. Lui è Raffaele. Salve. Sto riprendendo un video, è un problema? Buonasera. Grazie. No per vedere, vediamo bene la faccia di questo ragazzo quanto è contento da 1-10. Perché? Perché dici che... Ah perché accenderla è... Ma che bella che è, è tirata lucido. Ah questo cosa. Così è l'aria. Esatto. Allora intanto è chiusa. Adesso è in riserva. Ma che... C'è la riserva dentro. Sì sì sì. Allora se riesci ad accenderla, entro 10 tentativi la porti via. Prima devi trovare... Ecco così. Attenzione, infortuni in diretta. Oh! A few moments later. Grande! Era il decimo. Che bella luce gialla. Luce gialla. E che è gialla gialla. Ah così se ne va. Se ne va senza aspettare gli amici. Ricordatemi. Se per caso lo è in vanno. Non è capace di accendere. Non è capace di accendere. Non è capace di accendere. Allora primo pieno per l'XT 600 2KF. Ragazzi guardate la qualità di questa moto. Comunque è lucente. Questo XT arriva da un grandissimo appassionato di moto. L'ha praticamente smontata tutta e rimontata pezzo pezzo. Tutta verniciata, tutta sistemata. Guardate la pedana se non è porno. Non è porno la pedana. È pornissima. Ah e qua nel serbatoio ha fatto un trattamento. Trattato anche inizio. Sì per evitare che si arrugginisce. Esatto. Sono preparatissimo. Sanno venti euro. 13 cilidri e mezzo. Scebatoio. Guarda. Non sono lì. Andiamo a Milano da Mimue Anna. Andiamo a Milano da Mimue Anna? Sì seguite me. Primo. Secondo. Terzo. Quarto. Quinto. Sesto. Concentrazione. Guardate io come l'accendo. Faccio così. La potenza nel pollice opponibile. Mi avete fatto inalare il vostro gas di scarico. Questa è la tua. O meno. Questa è la Blue Hat? No. 2007. Messina. Ti aiuta a me la cucina. Molto bene. 2005. Ascoli Piceno. Questa colorazione fa veramente cacca. No. È la tuta cittata anni 90. Quella di Alberto Tomba. Fatti paglia. Prendi anche un po' di mozzarella. 2005, Roma. Il grosso. Però la sella non è originale. Vai bello. Il primo ingresso in box. La terza moto di Fra. Eh dai, l'hornet. Anzi la quinta con la hornet. L'hornet non la contiamo. La terza è la presente. Guarda la mia cavalletta al centrale alza moto. Fantastico. Vai dormire. Vai andando. E anche questa è fatta. Eh, volevo precisare che quella... Eh, non mi fai il dito che la metto sul po'. Quella è di Mauro. Li metterò, li metterò i pixel. E via. Comunque il box di Raffa ha tanta roba. Guardate qua. Organizzazione. Poi passo di qua. E il prossimo sarò io a prendere l'XT. E da Milano e tutto. Da questi box di inganni. E lì anche la via, non so. Poi vuoi anche dire una combinazione per entrare. Eh, 848. No, 848 lo direi tu. Guarda, così li riprendo entrambi. Le due XT. Tatta. Dai, fateci sapere cosa ne pensate di questi XT 600. E soprattutto, entro quando il Pirla se la deve comprare. Più scrivete, comprala, più scrivete... Se questo video arriva a un milione di views, prendo l'XT. No, più scrivete, comprala fra, più lui sarà stimolato. Mi voglia, stimolato. Stimolato. Che bello quando sono stimolato. Ah, sei stimolato? Vai di hype. Ciao. 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 Ciao.